Ciao ragazze, allora se vi seguite su Instagram sapete che sono state in Italia che ho fatto un acquisto a Milano perché vi ho postato la foto come sempre e l'acquisto è questa borsetta Valentino allora facciamo una piccola premessa perché questa borsa la cercavo tipo da un anno ho girato tutte le boutique nelle città in cui sono stata e era introvabile e quando sono entrata nello store Valentino Milano me la sono trovata davanti era l'ultima praticamente e quindi assolutamente doveva essere mia ce ne erano due diversioni in realtà una era un pochino più nude però su di me che ho comunque un sottotono rosa sono molto chiara di cannagione sembrava più marrone invece questa è proprio rosa e tra l'altro nemmeno la nude c'era quindi sono ma questo era proprio il colore che volevo che desideravo un sacco e fa parte della collezione estiva così mi hanno detto insomma io non lo sapevo mi piaceva proprio soltanto il colore e quindi non è enorme cioè questa in realtà sarebbe la versione più grande se non sbaglio ma non è grandissimissimissima però ci sta abbastanza roba dentro sarà che anch'io la riempio proprio al massimo tanto da farla quasi esplodere quindi oggi vi farò vedere tutto quello che c'è all'interno della mia borsetta senza aver controllato prima quindi vediamo allora prima cosa che mi capita sottomano è il fondotinta che uso per i vari ritocchini durante la giornata se devo ritoccare il trucco e questo è un fondotinta urban decay copro lo specchietto così non mi da fastidio fondotinta in polvere urban decay mi piacciono molto i nuovi fondotinta urban decay perché hanno delle colorazioni chiare e quindi sono perfetti per me e tra l'altro le colorazioni si distinguono anche a seconda del sottotono e questo è un sottotono freddo quindi insomma il colore è perfetto per me poi allora altra cosa che c'è qui dentro un pacchetto di tic tac vuoto perché è sempre utile avere un pacchetto di tic tac vuoto in borsa me ne rendo conto quindi chi di voi non ha un pacchetto di tic tac vuoto poi allora poi ci sono i miei occhiali da sole rigorosamente senza custodia perché in questa borsa non ci stavano e sono nuovi e si rigarano sicuro ma cosa ci volete fare devo portarmeli dietro e non ci stanno con la custodia quindi questi sono gli occhiali da sole con quest'outfit non ci stanno per niente ma sono dei raiban con la lente a specchio però un pochino più scura chissà che non mi avrà poi anche stavolta c'è il mio passaporto tipo ogni what's in my bag che faccio c'è il mio passaporto all'interno ma sono appena tornata dall'italia sostanzialmente quindi questo è rimasto nella borsa sinceramente e poi altra cosa che ho è il biglietto che tra l'altro non strappano mai il coso qua prima di farti entrare in aero quindi mi ritrovo sempre il biglietto ancora come nuovo e questo è il biglietto Roma Amsterdam con EasyJet che ricordiamo è sempre in ritardo ho fatto tipo 3 ore di ritardo grazie EasyJet poi allora altra cosa molto imbarazzante che c'è nella mia borsa in questo momento perché ho una penna figa Swarovski con tutti gli Swarovskini che tra l'altro ha anche il pennino USB il coso USB che non so dove sia in questo momento probabilmente sarà nell'altra borsa della Celine e quindi la penna imbarazzantissima che mi ritrovo in questa borsetta e cioè immaginatevi la scena io da qualche parte mi chiedono ah tu hai una penna? e io sì eccola con la facciona di Logiti tutta rosa ma perché no e questa è appunto una penna voglio dire mi sa che me l'ha regalata una di voi ad un incontro se non sbaglio credo proprio di sì poi allora c'è il mio cellulare dell'epoca preistorica non ha touchscreen no allora questo in realtà non è il mio cellulare io ho un iPhone come ben sapete ma questo è il cellulare che uso quando sono in Italia per ricevere le chiamate e dentro c'è la mia vecchia scheda italiana che usavo quando abitavo in Italia e questo cellulare continua a piacermi un sacco perché è rosa ha gli Swarovski dietro c'è lo specchio voglio dire che è sempre utilissimo e poi è piccolo compatto e ho menzionato il fatto che è rosa e quindi insomma sì lo continuo ad utilizzare anche se ormai è scomodissimo perché una volta che ti abitui con il touchscreen eccetera questo non ha internet ma appunto mi serve solo per ricevere le chiamate mentre sono in Italia il cellulare invece che uso quotidianamente è questo eccolo il mio iPhone 6 dorato e da oggi ho messo questo custodio che tra l'altro dopo il trasloco non riuscivo a trovare le custodie ho fatto tipo un mese con la stessa custodia mi stava dando il quanto fastidio come sapete sono abituata a cambiarle praticamente ogni giorno e questa mi piace perché è trasparente questo custodie quindi si può vedere il retro dorato dell'iPhone ma una cosa carina è questo cuoricino con delle ali di farfalle e tutti questi brillantini e poi mi piace molto il contorno che va a sfumare da un dorato fino ad un rosa un rosa fucsia molto molto bella come sapete tutte le mie cover per iPhone le trovo su ebay e insomma si c'è tantissima scelta quindi ho dato un'occhiata su ebay perché mi chiedete sempre dove ho preso quella cover dove ho preso quella cover al 90% a parte quella moschino eccetera al 90% le ho prese su ebay poi altra cosa immancabile logicamente nel senso dovevano esserci anche stavolta perché veramente in tutti i miei what's in my bag ci sono loro e sono le salviettine assorbisebo della Kiko amo queste salviettine nel senso se sono in giro la pelle è lucida mi basta passare velocemente una salviettina sulla zona e la zona diventa subito opaca sono fenomenali costano poco sono pazzesche comprate le salviettine assorbisebo veramente le fanno diversi brand oltre alla Kiko li fa Sephora io qui li trovo in un negozio che adesso in questo momento non mi ricordo come si chiama ma ci sono di tanti brand quindi date un'occhiata se avete la pelle mista o grassa queste salviettine specialmente in estate vi salvano la vita poi allora qui c'è il mio portafogli questo è il portafogli solo per le schede per le carte carta di credito bancomat poi ho qualche scontrino la mia scheda di quando sono in Italia non si vede il numero no quindi la mia scheda di quando sono in Italia è sì basta e poi allora c'è una tasca interna qui che cosa c'è non c'è niente c'è solo questa bustina che vedo oggi per la prima volta ed è non lo so un certificato Valentino ah ok ti dice come prenderti cura della pelle eccetera eccetera con una piccola bustina e poi c'è ci sono le cuffiette per l'iPhone che è sempre così sono sempre ingarbugliate ma io sono profondamente convinta che ci sia una specie di folletto che quando non sto attenta mi entra nella borsa comunque dove le cuffiette e me le ingarbuglia tutte perché è impossibile adesso non erano ingarbugliate ma a volte veramente ci metto delle ore e poi altra cosa che c'è questo già lo conoscete il mio portafogli perché già l'avete visto non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere anche nell'altro what's in my bag oppure in un video comunque lo conoscete questo è il mio portafogli è un boy wallet Chanel anche questo l'avevo cercato io ho tipo una lista di cose che voglio avere e fino a quando non le trovo non le prendo cioè neanche se è simile quindi quando sono riuscita finalmente a trovare questo mio subito e e si e niente non si mette questo il portafogli ci sono vari scontrini tutti i taxi monete e se vi dico le le monete che ho cioè va dall'euro ai dirham degli emirati arabi ai pound insomma le sterline inglesi veramente cioè i miei portafogli tutto c'è tra le che gli euro praticamente e e si e poi altra cosa che c'è qua dentro ah no poi c'è allora questo che è un anellino che mi ha regalato una ragazza all'incontro di Roma mi avete portato un sacco un sacco di regali quindi ne approfitto per ringraziarvi perché veramente ogni volta mi stupite tra l'altro eravate tipo più di mille al mio incontro che vi giuro c'era la fila fuori dal dallo store Wicon e io non ci potevo credere siete sempre tantissime ma ogni volta siete di più e me prendo una specie di colpo perché cioè non me l'aspetto mai nel frattempo l'illuminazione sta cambiando ma insomma è stato veramente splendido quindi grazie a tutte le ragazze che sono venute siete state veramente è stata un'esperienza magica proprio non so molto emozionante è stato molto bello e una di voi mi ha regalato quest'anello che aveva il dito se l'è tolto e me l'ha dato e ha questo cuoricino e quindi l'ho messo l'ho messo subito su e poi è finito in borsetta in realtà mi avete portato un sacco di altri regali ma quelli sono stati raccolti dalle ragazze della Wicon dai ragazzi Wicon e poi mi verranno spediti perché erano talmente tanti che in valigia non ci stavano ma è sempre così e poi ultima cosa che c'è è una mini la mia mini pochettina dove tengo i trucchi questa volta ne ho una piccolina perché appunto in questa borsetta non ci sta la pochette grande che ho allora le cose che ci sono dentro non sono tantissime in realtà il fondotinta deve esserci sempre l'avete visto le salviettine assorbissevo poi non porto tantissima altra roba e questo è il allora una cosa che c'è sempre nella mia borsetta è il rossetto comunque il prodotto labbra che indosso in in quella data giornata e oggi sto indossando questo che è il Revlon color bust ed è matte se vi piacciono come a me i colori labbra opachi veramente date un'occhiata a questi mattitoni opachi Revlon perché sono molto carini le colorazioni sono molto molto belle questo è quello che non so oggi che è tipo un pesca arancio pesca e poi altra cosa che c'è qui ah c'è il balsamo labbra sempre sempre un balsamo labbra specialmente prima di applicare i prodotti opachi per le labbra mi raccomando ma devo sempre averlo perché le mie labbra tendono a cercarsi molto facilmente quindi ho sempre un balsamo labbra portata di mano e questo è della Claren e si è un semplicissimo balsamo ti lascia un minimo di colore rosato ma è veramente molto molto tenue praticamente trasparente mi piace perché ammorbidisce bene le labbra ed è ottimo come base per i vari rossetti e gloss poi allora si la limetta visto che le mie unghie si spezzano veramente nei momenti meno opportuni e nei luoghi meno opportuni ho imparato che se non mi porto con me che se non porto con me una limetta non sopravvivo quindi deve esserci e poi aiuto faccio cadere tutto e poi ultima cosa che c'è è il profumo questo è il ground ball non so pronunciarlo ma probabilmente circa il ground ball Christian Dior questo me l'hanno regalato alla boutique quando ho acquistato degli orecchini se non sbaglio forse un bracciale non mi ricordo vabbè me l'hanno regalato alla boutique ma porto sempre con me dietro un profumo ah perché al 50% delle volte mi dimentico di metterlo prima di uscire di casa quindi poi lo metto al volo e B anche se metto il profumo prima di uscire di casa tempo 3 ore il profumo su di me scompare io non riesco capire se la mia pelle che ha non lo so che ha un profumo forte non riesco capirlo ma i profumi su di me scompaiono e non è perché alcune di voi mi hanno scritto ma perché poi ti ci abitui a quel profumo e quindi non lo senti più no cioè anche quei profumi nuovi dopo un paio d'ora su di me scompaiono completamente quindi questo però mi sa ragazze che è tutto perché la borsa come potete vedere è vuota come al solito se avete richieste per i prossimi video qualsiasi cosa scrivetemi qua sotto nei commenti so che sono sparita per tantissimo tempo ma veramente tra viaggi e trasloco ragazze è stato un po' un caos promesso che non vi abbandono vi penso sempre anche quando non metto video su youtube date un'occhiata ai miei social al mio instagram al mio twitter al mio facebook che sono sempre 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 attiva e quindi vi penso sempre io vi mando un bacione gigantesco alla prossima ciao ciao ciao